È fattibile quello che sta suggerendo il Presidente Monti e Renzi oggi ha riaperto al dialogo con Conte dicendo però che deve essere un confronto senza vetti. Alla fine quale sarà la soluzione possibile? La base di partenza in questa situazione è che si è creata una situazione lose-lose. Tutti e due sono usciti più deboli. Quindi Renzi e Italia Viva sono fuori dal governo e Conte si ritrova con una maggioranza risicatissima che dovrà difendere colpo su colpo. Noi rischiamo di andare avanti, dubito che possa aumentare la base di maggioranza. Credo che vedremo molti decreti del Presidente del Consiglio, qualche fiducia in più di quanta sarebbe lecito aspettarsi. Si ragionerà a ricatti fino a quando, purtroppo l'irresponsabilità del gesto renziano ha portato a questa situazione. Quindi la vedo grigia, non penso che includendo di nuovo, e poi perché dovrebbero rivolere Renzi in maggioranza? Si è dimostrato un inaffidabile e un giuda. Ci hai messo in questa condizione, quando potevi ricattarci e adesso che non hai più niente in mano, perché dovremmo negoziare con te? Io se fossi al posto di Conte, Renzi, non ci andrei a prendere neanche un caffè, non farci una maggioranza a questo punto. Simona Sala, sei?